ma come far riconoscere quello che è il tuo preferito eh 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 signore avete visto le mani dove le teneva e vorrei dire è buono non è un mio dubbio però se mi intendete in culo a chi lo capisco che lo vogliamo spronare ad andare più veloce però andiamoci possiamo andare ma io se l'ho ripreso questo qua finisce su youtube e l'ho ripreso io mi chiede io che ho urlato un uomo che prova masturbazione anale durante il giro d'italia ma no sto riprendendo al contrario no no aspetta 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 fai passare tutti sto passando il giro d'italia guarda il giro dell'ambulanza della catoglia ma che razze magre della stana della movistar team non è liquido guarda stanno dentro le macchine perchè hanno perso ma secondo me cacca tu non sta a pariente ma non è liquido ma sono più le macchine o più i ciclisti? no no tante macchine quando i ciclisti ma io ho un giro d'italia eccolo qua l'ambulanza di animazione di pomo ma io sto riprendendo il giro d'italia guardate che si parla di migliaia di persone qui circa 22.000 si è detto secondo la stampa beneventana vabbè la stampa beneventana quello che vi sta facendo i video da te ma lascialo stare fine gara ciclistica in quadra fine gara il giro d'italia finisce qui ok ci vediamo grazie